Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovo video Oggi vediamo la mia squadra al primo Fanta Calcio stagionale Allora, è un Fanta Classic con 300 Fanta Milioni Le regole principali sono modificatore di difesa, bonus capitano e l'annuente di quest'anno lo switch Allora, per i portieri ho adottato la tecnica che adotto sempre a questo Fanta Ovvero quello di non prendere mai portieri di squadre di alta classifica Ma sempre di medio-bassa classifica per risparmiare sui soldi Perché comunque sia 300 o non è che sono tantissimi Ho preso alla C, Caprile a 1 perché comunque sia il titolare dell'Empoli Poi ho preso Silvestri a 11 Che penso si alternerà con Caprile nella mia squadra In base a chi avrà la partita più facile E Turati semplicemente come terzo a 1 In difesa io diciamo sono uno di quelli che non prende difensori centrali Infatti ne ho preso solo 1 su 8 Più che altro terzini o addirittura esterni di centrocampo Ho preso Colasini a 3 Christensen a 9 Ci voglio puntare su di lui Singua a 1 e Spinazzola a 9 Quindi diciamo le fasce, gli esterni della Roma E poi ho preso Bellanova a 9 Che secondo me potrà far bene al Torino Calabria a 6 Quadrato a 7 Quadrato perché comunque sia Con Danfris si alterneranno Quindi penso che giocheranno metà lui e metà Danfris E Tio Hernandez a 19 Inizialmente non lo volevo Lo stavo alzando E mi sono ritrovato un Tio Hernandez in più Che comunque sia male non è Per quanto riguarda i centrocampisti Invece ho iniziato l'asta con calma Ovvero ho preso Elmas a 8 Perché avevo appena letto Nella pomeriggio Che Zelisky era sempre più vicino all'Arabia Saudita Quindi ho detto se Zelisky parte Elmas alla fine sarà titolare Poi ho preso Jassi Perché secondo me su quella fascia L'Empoli qualche bonus potrà portarlo Shankton semplicemente a 1 Per ricoprirmi L'ottavo slot E poi ho iniziato diciamo a spendere A buttarci un po' di fantamellioni Su due giocatori della Juventus Che secondo me quest'anno faranno bene Perché comunque sia Non hanno altre competizioni Giocheranno loro un campionato Perché comunque sia Non hanno altre alternative in quel ruolo Che possono rubargli il posto Ovvero ho preso Kostic a 16 E UEA a 15 Poi ho preso Pellegrini a 17 Perché comunque sia con la Roma È una garanzia E Luis Alberto a 20 Perché comunque sia Luis Alberto È uno che assiste a goal Se è in stagione Te li fa Se non è nel momento in cui litiga Con la società e tutto Te li fa Come ultimo Ho preso Love to Chic Inizialmente non lo volevo Cioè non è uno di quei giocatori Che mi piacciono a me Ovvero Che giocano più dietro Più in mediana Ero a 7 E ho detto Ma quasi quasi E me lo sono preso Arrivando agli attaccanti Ero arrivato con 137 fantamilioni Su 300 Diciamo che ero il secondo Con meno crediti Quello che aveva meno crediti Aveva una cifra Che si aggira intorno Al 110 E il genere Allora ho preso subito Alla B Bonazzoli A 10 Che secondo me Al Verona Qualcosa potrà farla Poi ho visto Che tipo Berardi Beto Stavano andando A tanto E allora ho dovuto Subito prendere Un attaccante Perché se no Non ce l'avrei fatto Ho preso Chiesa a 49 Poi Ho preso Un altro giocatore Alla C Ho preso Correa a 2 Perché comunque Si sa Secondo me Lautaro giocherà Ma quelle 5-6 partite Come ottavo slot A Correa Potrebbe pure La sciacchiera Poi ho preso L'altro attaccante Perché ormai Stavano Conservando tutti i soldi Per i più forti Diciamo Stavano ancora arrivando Vlaovic Immobile Quindi comunque Tutti si conservavano I soldi Allora ho detto A Luckman Me lo prendo Subito Non aspetto Altro E allora A Luckman A 49 L'ho preso E poi Non sono più Riuscito a prendere Niente L'ho rimasto Con 27 crediti Andavano tutti via Sopra i 40 Quindi ho preso Tauvina 3 Che è da vedere Quando ritornerà Deulofeus E si alterneranno Giocheranno tutti e due E alla fine Pavoletti A 4 Perché è il titolare Come quinto slot Alla fine Questa alla fine Era la formazione Diciamo che Il modulo Ovviamente Che ho predisposto Considerando che Attaccanti quest'anno Non ce n'erano E un 4-4-2 Con Silvestri Tre pali Poi penso Giocherò con Il 4-4-2 Di base Inizio dovrebbe essere Tiverlandet Spinazzola Christensen O Calabria O Quadrado Quindi con In panchina Singob La 9 E con la Sinac O l'altro Tra Calabria Quadrado I 4 di centrocampo Saranno Kostic Luis Alberto Pellegrini Weha Col Giasi Luftushek Youngton Ed Elmas Pronti In caso di Di fide O Partite complicate E i due davanti Chiesa e Lukman Contowin E Pavoletti Bonazzoli E Correa Diciamo che Sono soddisfatto Sono rimasto pure Con 20 crediti In caso In questi ultimi giorni Di mercato Arrivasse Qualcun altro Secondo me È una formazione Che può puntare in alto Diciamo Se si Se i giocatori Fanno bene Se questa sarà La loro stagione L'unico dubbio Che forse Potrà avere Quello in attacco Perché Con Chiesa e Lukman Diciamo Non sono Due Punte Diciamo Sono Più due giocatori Di velocità Di movimento Più da assist Più che da go Però Lukman È rigorista Chiesa Magari qualche rigore Potrebbe pure Batterlo Se Vlavic Non sia in campo Quindi È da vedere Ci saranno Scambi Poi i mercati Di riparazione Quindi Si vedrà un po' Sono soddisfatto Secondo me È una bella rosa Poi ditemi pure voi Che cosa ne pensate Secondo me Può puntare in alto Ciao a tutti ragazzi E vi auguro Una felice e bella vita